Ciao! Siamo cagnoline molto cool. Amiamo le acconciature. Insieme vivremo mille avventure. Bitbacks! Bitbacks! Siamo le Bitbacks! Se siamo insieme, noi non ci fermiamo. Luzza, paura, inizia l'avventura! I love Bitbacks! Un ospite speciale. Incredibile! Questo è molto strano. Fabia non lascerebbe mai le cose in giro così. È come se qualcuno avesse provato a entrare nel salone... Ok, niente panico. Ma guarda che sorpresa. Oggi una V-Pets fan è venuta a trovarci al salone. Scusa per la confusione. Credo che qualcuno sia entrato di nascosto. Ma non ti preoccupare. Ho tutto quanto sotto controllo. Ma è incredibile. Sei così coraggiosa. Non ti sei mossa. Non come me. Ti copro le spalle e andiamo a aiutare Chiara. Ok, andiamo. L'ho trovata finalmente. Ops, scusami, Fabia. Ma tu che cosa hai fatto a Chiara? Sto creando un nuovo look. E Chiara mi sta dando una mano. Però mi manca qualcosa. Aspetta un secondo. Lunghezza perfetta, nessuna doppia punta, setosi e brillanti. Sono perfetti per il nuovissimo look che sto creando. Ho un'idea per te. Fai il tuo look sulla V-Pets fan e io lo rifaccio a Chiara. Sono sicuro che saranno entrambe stupende. È una grande idea, zio. Ma lei chi è? Lei è una V-Pets fan che è venuta qui per farci una sorpresa. Tu credi che mi lascerà farle un'acconciatura? Ci sono due opzioni. Potrebbe dirti neanche per idea oppure sì. Mi piacciono i tuoi capelli. Sono davvero fantastici. A proposito, io mi chiamo Fabia. Lui è Fabio e lei Chiara. Tu sei una vera V-Pets fan. È bello che tu ci conosca. Ma io vorrei farti una domanda. Mi lasceresti provare una nuova conciatura su di te? Certo che sì. Grande. Allora cominciamo. Non sono molto convinta. Ma se è uguale. Non credo che questo look riesca bene facendolo di fretta. Vediamo cosa succede se provo a rifarglielo. Perché non lo facciamo un passo alla volta e tu capi su Chiara quello che sto facendo io? E così le V-Pets fan possono seguire i passaggi da casa. È una grande idea. Io inizio col pettinare questo groviglio che hai fatto. Per il look di oggi avremo bisogno di… Una spazzola. Elastici. Alcuni accessori. Tinta spray per capelli blu e rosa. Una tiara in stile Bollywood. E degli occhiali da sole fashion. Ora devo spazzolare i capelli della nostra V-Pets fan. Incredibile. Sono meravigliosi. I tuoi capelli sono da medaglia d'oro. Ti ringrazio davvero. Seguo sempre i vostri consigli e mi prendo cura dei capelli. Dopo che abbiamo spazzolato tutti i capelli, passiamo alla fase successiva. Coloriamo la parte inferiore dei capelli di blu e quella sopra di rosa. Wow! Sono fantastici! E ora iniziamo a fare due trecce prendendo due ciocche da davanti e portandole dietro. Ne facciamo una per lato. Non dimenticate che se vi sembra difficile potete chiedere aiuto a un adulto. E adesso prendiamo due ciocche di capelli blu. Una da sinistra e una da destra. E le passiamo attraverso la treccia unendole assieme con l'aiuto di questa perlina. Così. Visto? Ripetiamo tutti i passaggi ancora due volte. Così siamo sicuri che tutte le ciocche siano ben legate assieme. Wow! Quegli accessori sono davvero unici! E ora mettiamo la tiara e gli occhiali da sole. Wow! Tadà! Che ne pensi del look finale? Mi sembra proprio fantastica. Ma tu che cosa ne pensi? Che non potrei essere più felice. Tutte le mie amiche rimarranno stupite dal look. Soprattutto perché assomigliò a Chiara. Perché non facciamo una foto assieme per i nostri fan? Vi sembra una buona idea? Certo che sì. Bene, Vipets Fan. Il nostro look di oggi è finito. Se vi è piaciuto ciò che avete visto, potete mettere like al video e iscrivervi al canale. Alla prossima, Vipets Fan. Che sarà molto presto. E non dimenticate, una vita piena di colori è molto più divertente. Look da paura, inizia l'avventura! I love Vipets!